Nel marzo 2018 è uscita la norma UNI sulla certificazione delle competenze del pittore edile. È la prima volta che abbiamo una norma nazionale che vale su tutto il territorio ed è riconosciuta dallo Stato e da quest'anno abbiamo la certificazione. Facciamo un po' di chiarezza perché questa cosa è importante. La norma la fa l'UNI che è un ente nazionale di normazione che stabilisce quali sono i criteri per definire una figura professionale. Il pittore edile ha delle competenze. Le competenze sono l'unione tra le conoscenze, quello che sa, e le abilità che è quello che sa fare. La norma definisce quali sono i compiti e sono quello di stare in cantiere, di valutare sottofondo, di riconoscere se il ciclo di lavorazione è giusto, di riconoscere i materiali e saperli miscelare, prepararli ed applicare sul supporto, sulla parete. E poi stare in cantiere, seguire tutta la pratica degli smaltimenti e chiudere l'opera e consegnarla. Questi sono a grandi linee i compiti descritti dalla norma, a livello molto generico, non è scritto nella norma come si deve diluire un prodotto oppure come va applicato.